Lo dico con orgoglio, da Fannellino di Coda diventiamo laboratorio di idee. È la prima regione in Italia che coniuga non un intervento economico a pioggia, ma un intervento che riconosce il ruolo professionale del farmacista. E questo mi rende particolarmente orgoglioso perché significa che questa regione ha capito il valore sociale del ruolo del farmacista. E quindi ritengo che questo sia un bietto da visita estremamente importante per il cittadino campano. Il cittadino campano sa che trova e troverà sempre nelle farmacie un luogo di approccio, un terminale del sistema sanitario dove trova un professionista che saprà rispondere a tutte le sue domande.